Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi.Una scena alquanto iconica, avvenuta in queste ore all'interno dello spiato appartamento di Cinecittà, ha fatto e sta continuando a fare il giro dei social e gli utenti non smettono di ridere per l'uscita molto intima di Rosie Chin. La cuoca magari credeva che la regia del Grande Fratello 2023 non la stesse inquadrando. Nemmeno gli autori e la regia probabilmente si aspettavano un'uscita simile da parte di Rosie Chin che si è però sempre dimostrata aperta e libera nel parlare di determinate cose di fronte alle telecamere. Ma è com'è andato il tutto che ha fatto ridere a crepapelle gli spettatori della diretta del Grande Fratello 2023. Grande Fratello, la confessione shock di Rosie.Dopo praticamente sei mesi di reclusione, lontani dai propri familiari e anche dalle passioni più naturali e necessarie della vita di tutti, i concorrenti del Grande Fratello 2023 stanno affrontando una prova che non tutti riuscirebbero a vivere. Certo, lì dentro c'è anche chi può ritenersi più fortunato, avendo ship in corso e soprattutto in un'edizione che non prevede le telecamere accesse nel corso della lunga nottata. Le telecamere della diretta puntavano su Beatrice Luzzi e Simona Tagli quando hanno pensato bene che fosse arrivata l'ora di cambiare regia e, proprio in quell'istante, si è sentita Rosie Chin dire, io ho bisogno di score. È un fatto vitale, è così che mantengo la mia energia. In astinenza non so stare, troppi mesi, e per me è importante farlo. Mi spingo e poi è un bisogno primordiale. Un collante. Questione di energie. Mi sento male, la cuoca vi prego, a satanata e ci credo, momento iconico, scrivono molti fan su X. Grazie.